Allora, in mezzo a noi, da questo recinto momento, quando facendo l'unitente, canale Citi, canale Satellitari di YouTube, in mezzo a noi siamo voi di salutare, tutto per la palazza stella, comitato zero, generale un po' di no, ricciamate, facciamo un grande applauso per la palazza stella, e per la palazza stella, comitato zero, generale un po' di no, ricciamate, facciamo un po' di no, ricciamate, E' un ricordi, cari cittadini, da un pezzo qua, E' un luogo di te, che dove fai? A casa un bel lavoro, 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 L'anno del lavore, su e il pezzo qua. E' un ricordi, cari cittadini, da un pezzo qua, E un luogo di te, che dove fai? E' un biuro di te, che dove fai? E' un ricordi, che dove fai? E' un ricordi, che dove fai? E' un ricordio, che daldi e voli a voli, Allora, i generali, eh! a sussidio a sussidio a regalocini tutto quanto faccia a capullo a capullo e piene e io amico questo mi piace questo mi piace tutti in disco Sì, sì, sì. 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 Sì. Allora, allora, scusami, Armando, io questo qua, stella 98, personalmente la voglio tenere con siciluzzo, io, con siciluzzo, voglio bene. Allora, forza, forza. Allora, forza, 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 Giri c'era la ziii Oh, non la voglia, certo ci sono chiedi la chitana Oh, 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 oh Vai con dico, va, con dico, va, vai E' bello con dita Vai con dico, va E' ziii, ziii Non ci va Non ci va Non ci va e' , beh Non ci va ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.